Oh 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 Grazie per il passaggio Giacomo, è stato veramente un piacere e adesso prendo il mio navigatore e proseguo il percorso Ecco qua, di là Vado avanti a gomitate tra la gente che si affolla Buongiorno! Chi è? Buongiorno messere! Salve, buongiorno! Benvenuti a Madonna del Castello! Benvenuti chi? Sono da solo! Venite che mi accompagno! Ma venite chi? Seguiteci! Vi seguo, vi seguo Venite tutti, andiamo tutti Grazie Buongiorno messere! Buongiorno a voi signori! Ma che bello, ma in che epoca siamo? Ma nel 1400! Qual buon'aria vi ha fatto arrivare fin quassù? E' aria di sagra della salsiccia! E non solo, ma dello vino pure! Dove devo andare? Giù in basso, prendalo carretto! Prendalo carretto! Grazie signori, ma da arrivederci! Scusate, è questo lo carretto che mi deve portare alla sagra della salsiccia? Salite, salite! Salite, sì, io sempre solo sono, va bene? Allora saliamo! Castelnuovo Don Bosco! Stiamo arrivando! Avanti comandante! Ad agio! Ma non troppo! Eccomi! Grazie del passaggio! Scusate ragazzi, un'informazione! Scusate ragazzi, un'informazione! Scusate, chi stanno chiamando? Se non l'avete capito, questa è la sagra della salsiccia di Castelnuovo Don Bosco! Salve a tutti, eccomi! Sono arrivato, sono nel cuore della sagra! Questa è la sala di comando! Qui partono le pietanze e le bontà che arriveranno poi sui tavoli delle persone a partire, ovviamente, dalla salsiccia alla piastra! Ma vedo anche una cosa molto interessante! I tagliarini! I tagliarini, eccoli qua! Ho raguti! Di salsiccia, ovviamente! Di salsiccia! Applauso ai tagliarini che entro nell'acqua! Guardate che meraviglia! Lei! Grazie! Io adesso che faccio? La mangio col microfono! Scusate! Devi cantare una canzone, se no non gliela possiamo dare! La frase! Io vagabondo, che sono io! Ecco, così non li avrà proprio i tagliarini! Niente, lasciamo perdere! Polpetta, polpetta delle mie brame! Chi è la più buona del reame? Salsiccia, patate, formaggio... Io svengo! Ilenia, scusami, eh! Quattordicesima edizione di questa sagra della salsiccia! Com'è nata questa idea? Su iniziativa di un gruppo di anziani che ha detto Ilenia, facciamo una bella festa per i giovani! E da lì è nata la sagra della salsiccia! Paolo, 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 con tutte queste prelibatezze A base di salsiccia! Che vino ci abbiniamo? Niente di meglio che la fresa! Asciuga bene la bocca dopo la salsiccia e perfetta! Friggi le due patate! Dov'è il tavolo? Fammi strada, fammi strada e ti seguo! Fammi strada e ti seguo! Fammi strada e ti seguo! Allora, bruschette e agnolotti! Allora, facciamo una cosa! L'agnolotto per me e la bruschetta per te! Metteteci qui! Guardi adesso lì, lì vedrà camper! Ecco lì! E' ferma, immobile! Ma quindi che mangiamo stasera? Sono cisse, ovviamente! E basta? E patatine fritte! Ma è proprio una cosetta leggera! Proprio da boomer! Quattordicesima sagra della salsiccia a Castelnuovo Don Bosco, provincia di Asti, fatta! Cari amici di camper, è arrivato il momento di assaggiare una delle tante prelibatezze che hanno preparato i nostri amici! La salsiccia in umido con i piselli! E allora, evviva la salsiccia! Evviva camper! Che soddisfazione che mi danno sti ragazzi, guarda! E io mangio!